Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta ai frutti di bosco. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono confettura ai frutti di bosco, farina di tipo doppio zero, zucchero, yogurt ai frutti di bosco, olio di semi di girasole, uova, lievito per dolci vanigliato, vanillina, pasta di limone e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova, la farina, l'olio, lo yogurt, la pasta di limone, il sale, la vanillina e il lievito. Ad azionare il bimbi per due minuti a velocità 5. Versare il composto in uno stampo da 26 centimetri ben imburrato. Abbiamo messo la confettura ai frutti di bosco in una sacca poscia. Adesso la metteremo sulla superficie della torta partendo dal centro. Adesso cuoceremo la torta in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. La torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Sfalverizzare con zucchero a velo e servire. Torta ai frutti di bosco. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!